sì il presidente eh vabbè abbiamo attivato la registrazione perché poi sapete come ogni anno poi vi mandiamo l'integrale in modo ideale che se vi dovesse servire e il presidente ci teneva a fare il punto della situazione sapete che insomma sono stati tanti gli appuntamenti stampa durante la stagione molti degli argomenti che affronteremo oggi eh li abbiamo già affrontati strada facendo però come al solito il presidente ci tiene a fare un bilancio annuale della stagione allora la abbiamo inviato anche l'agenda con eh con gli argomenti odierni e se tutto è chiaro noi iniziamo do questi sono gli argomenti che andremo ad affrontare oggi sono tanti numerosi cercheremo di essere celeri va bene io do subito la parola al presidente federale che inizierà a illustrarvi fa facendo un bilancio di quelli che sono stati i grandi eventi della stagione buongiorno a tutti questa conferenza la facciamo innanzitutto per fare il il sunto di un anno ma soprattutto per ringraziare voi e darvi gli auguri di buon anno per l'anno per il duemilaventiquattro che per noi sarà un anno particolarmente importante soprattutto per ringraziarvi per quello che giorno per giorno fate con il vostro lavoro per la pallavolo abbiamo voluto iniziare questa conferenza stampa con un' immagine che è questa credo che sia l'emblema di quest'anno quest'anno l'arena di verona rappresentato per noi e per tutta la pallavolo credo non solo italiana ma mondiale qualcosa di di stratosferico di bello ma soprattutto eh ci ha proiettato finalmente in un mondo un po' diverso siamo riusciti ad entrare in arena ma l'arena come simbolo di cultura di storia e riportare lo sport in questi luoghi per noi è stato assolutamente un un risultato strepitoso al di là della presenza del pubblico al di là della presenza dell'interesse che c'è stato per noi ha rappresentato davvero il massimo di quest'anno e chiaramente andando avanti dobbiamo cominciare a parlare anche di eventi quindi il problema per parlare di eventi quest'anno abbiamo centrato soprattutto due manifestazioni importanti che sono gli europei senior indoor e gli europei di sitting volley per gli europei indoor al di là del risultato tecnico che è stato comunque positivo per la maschile magari per la femminile ci aspettavamo qualche ci aspettavamo qualche cosina in più però da un punto di vista promozionale da un punto di vista di immagine credo che un risultato del genere non si si ha mai visto nove città è la seconda volta che succede in italia grazie a dio siamo solo noi quelli che facciamo questo tipo di esperimento c'è stata c'è voluta sicuramente un po' di pazzia come ho sempre detto per organizzare i nove città ma questo l'abbiamo potuto fare grazie ai nostri comitati territoriali sapete tutti perfettamente che rappresentano per noi l'ossatura della federazione sono davvero bravissimi li ringrazio per tutto quello che stanno facendo ma in occasione degli europei si sono davvero davvero superati quindi chiaro che li ringrazio e li ringrazio a nome della federazione i numeri e i numeri li potete vedere 53 milioni di spettatori in tv 93 milioni 93 mila 534 spettatori in presenza abbiamo sforrato i 100 mila quasi un incasso di 3 milioni gli utenti che hanno interagito sui social sono oltre 4 milioni io credo che il risultato di questo di questo europeo non può che essere sicuramente positivo e siamo stati per la verità ringraziati dal pubblico siamo stati in grado di di dire oggi che quello che avevamo pensato sicuramente ha portato i suoi frutti ma li ha portati soprattutto oggi perché in termine di di aumento di tesserati magari lo vedremo più in là cioè le nostre società sportive sono davvero soddisfatte mi devo anche dare un piccolo particolare che probabilmente a molti non è che è stuggito cioè noi abbiamo organizzato e vinto quindi su questo e dobbiamo esserne davvero fieri un europeo di sitting volley anche qui siamo stati forse i primi al mondo ad organizzare una manifestazione di questa entità andando a trasformare sicuramente tutto il sito in un momento di 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 importanza anche i numeri degli spettatori piuttosto che i numeri delle degli ascolti ci hanno gratificato e ci hanno gratificato molto guardate credo che tutti quanti noi abbiamo visto tante vittorie abbiamo visto tante medaglie tanti titoli conquistati personalmente mi sono è la prima volta che riesco a commuovermi dopo una vittoria del genere perché ho visto delle ragazze splendide ma di là brave da un punto di vista tecnico sono delle ragazze fantastiche che hanno davvero dato tutto in maniera diciamo sono sono dei volontari non sono professionisti non sono pagati queste ragazze hanno dato davvero tutto ringrazio lo staff ringrazio chi si è impegnato in questa attività intanzitutto ringraziare l'organizzazione di di caurle devo ringraziare il vicepresidente bilato comunque loro sono stati bravissimi e anche qui possiamo dire che abbiamo vinto un'altra scommessa chiaramente se ci sono domande da parte vostra alzate pure la mano che insomma ok vi diamo la la parola quando lo ritenete più opportuno quindi è chiaro che come vi dicevo prima tutto questo ha portato qualcosa di importante nei nostri numeri volevo solamente dirvi che alla data del 20 dicembre del 2023 rispetto alla data del 20 dicembre del 2024 abbiamo riscontrato 46.537 tesserati in più significa che sono 314.000 i nostri tesserati noi contiamo di arrivare a 400.000 per la fine dell'anno ma già questi numeri sono numeri già superiori a quelli che avevamo nel pre covid è chiaro che i risultati delle nostre nazionali ma soprattutto anche i risultati da un punto di vista di promozione dell'evento fatto dall'europeo ci ha portato ad avere questi questi numeri incredibili io non voglio fare classifiche con altre federazioni non mi interessa non dobbiamo solo guardare dobbiamo solo guardare a noi stessi e stiamo verificando che tutto questo lavoro sta piano 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 portando i tutti i frutti sperati dobbiamo parlare dei risultati io qui vedo che alla fine alla fine di tutto forse in un anno in cui rispetto al precedente abbiamo avuto qualche medaglia in meno perché c'è stata comunque qualche manifestazione in meno leggo leggo registro che abbiamo preso le nostre otto medaglie le abbiamo le le abbiamo guadagnate le abbiamo prese ehm medaglie d'oro d'argento qualcuno anche di bronzo abbiamo vinto l'europeo del sitting femminile che è stata una delle manifestazioni come vi dicevo prima più belle e più emozionanti che abbiamo potuto organizzare quest'anno investimenti io chiaro che per avere questi risultati capite perfettamente che eh non non si può fare nulla senza che ci siano degli investimenti il bilancio nostro lo conoscete lo potete vedere sul sito man mano che eh lo approvi approviamo il preventivo e il consuntivo io non so eh le altre federazioni europee ma noi per le nazionali seniores spendiamo abbiamo speso l'anno scorso quattro milioni oltre quattro milioni di euro per l'attività giovanile oltre tre milioni e seicento mila euro per il beach volley un milione trecentottanta mila euro e per il sitting volley ottocento venti mila euro significa che questi sono investimenti sulla preparazione olimpica sul settore della preparazione olimpica che comunque alla fine i loro frutti li stanno anche dando quindi ma se pensiamo che questo investimento si ripercuote e va a vantaggio anche delle nostre piccole società perché aumentando i numeri capite benissimo che le nostre società aumentano le entrate e quindi l'attività diventa molto ma molto più fluida ma soprattutto i nostri dirigenti con l'aumento dei tesserati hanno la possibilità di programmare meglio le loro attività le loro attività che comunque io volevo solo darvi in base a questo che stiamo avevo detto su attività giovanile e guardate se vi faccio un esempio mi è arrivato stamattina proprio un riepilogo di quello che il la il settore maschile dico parlo il settore maschile sta facendo nel settore giovanile con il club italia allargato sono se su sette regioni sette regioni su ventuno a oggi abbiamo visionato hanno visionato duecentosessantotto atleti già scelti e portati migliori da parte delle società sono stati presenti agli allenamenti duecentotto allenatori significa che eh tutto tutta l'attività si sta riporrendo si sta eh andando sul territorio in maniera anche abbastanza capillare e abbiamo parlato solo di un segmento perché poi dopo il club italia allargato eh ci sarà ci saranno i processi selettivi maschili al femminile lo stesso eh club italia del sud abbiamo varato ieri proprio in consiglio club italia anche del centro poi faremo altri altri tipi altri tipi di iniziative i processi selettivi significa che questa è una federazione che sul territorio sapete benissimo è molto presente ma soprattutto dal territorio ha tantissimi tantissimi riscontri è chiaro che anche nei confronti delle società stiamo cercando di di dare una mano eh ieri in consiglio federale abbiamo fatto un investimento un investimento di cinquecentomila euro dal bilancio più duecentonantacinque mila euro sull'un come quota dell'utile commerciale che possiamo riversare le società sportive intervenuti su un segmento importante che è quello dei nostri delle nostre squadre under 18 under 17 under 19 e under 16 che sono quelle che hanno più bisogno in questo momento e sono quelle che eh subiscono un drop out maggiore sono piccoli interventi su ciascuna società per ogni squadra abbiamo stabilito di dare un certo importo diciamo che comunque è un aiuto che stiamo dando a tutte le nostre società in quel particolare settore certo non ci fermeremo qui perché sappiamo benissimo che eh i nostri problemi non sono sulle sulle categorie con età più bassa anzi lì il problema ce l'abbiamo in maniera opposta abbiamo tantissimi bambini ma non abbiamo gli spazi negli impianti per poterli per poterli ospitare tutti quindi il focus che sarà fatto in questo momento è quello di andare a potenziare l'attività a fare investimenti nel settore più più complicato che quello dei 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 ragazzi intorno dall'under 16 all'under 19 il beach azzurro io credo che potete dare tranquillamente voi eh un'occhiata a tutta l'attività e anche qui investimenti che stanno piano piano dando i frutti chiaro che eh se non si programma se non si fanno se non si mettono io dico i soldi ma soprattutto non ci sono le idee chiaramente i risultati non ci sono abbiamo ringiovanito tutto il settore credo che pian piano le nostre coppie stanno facendo eh risultati e quindi anche oggi possiamo dire che abbiamo buone ottime probabilità vedo le tutti i risultati che quest'anno si sono succeduti eh per quanto riguarda le nostre le nostre coppie vedo che stiamo anche abbastanza bene nel ranking quindi abbiamo delle delle buone possibilità comunque di essere di essere a Parigi io mi auguro almeno di confermare le tre coppie però credo che alla fine ci saremo eh ci sono mi stiamo allegando delle delle slide giusto per capire come sono andati i risultati di quest'anno e quindi credo ve le potete vedere con calma sono numeri importanti abbiamo voluto lasciare questa questa slide per i vedete il vedete il l'europeo fatto in casa comunque ci ha portato davvero davvero tanta tanto slancio ma soprattutto ha fatto conoscere una una realtà al nostro mondo che prima magari non non si percepiva invece pian piano stiamo vedendo che questi risultati stanno trainando il movimento noi speriamo un futuro di avere per quanto più quanto più possibile di avere in futuro la possibilità di completare eh il nostro processo di crescita soprattutto per quel che riguarda l'attività di base stiamo abbiamo programmato con il settore con il coordinatore abbiamo abbiamo eh programmato tanta tanta attività ora si tratta di cominciare a mettere a frutto un po' tutto tutto quello che è stato programmato l'attività giovanile qualcosa vi ho detto prima ma intendevo soprattutto l'attività del della delle nostre nazionali ma eh credo che tra le finali nazionali giovanili profilo delle regioni eh questa federazione sapete perfettamente che muove una massa di eh persone una massa di giocatori una massa di avreti e vi dicevo tutto questo per fortuna è possibile perché abbiamo una periferia molto molto organizzata una bella una una buona periferia che lo satura di tutti noi però non ci possiamo fermare perché nei vari progetti se il volo IS3 eh ma soprattutto con la nostra presenza nelle scuole è chiaro che siamo in crescita comunque sapete che la pallavolo è lo sport sostanzialmente che nelle scuole eh è più apprezzato e ma vediamo che comunque cresce cresce di più anche perché eh siamo intervistati interessando direttamente le nostre società i nostri tecnici i nostri allenatori e c'è una richiesta comunque sempre più forte da parte del mondo scolastico di essere eh di avere la nostra presenza all'interno dei loro progetti eh le finali nazionali giovanili qui abbiamo scritto dei numeri andiamo intorno parlando solamente di numeri che la federazione muove non parliamo di tutto l'indotto andiamo con duemila trecentocinquanta atleti centosessantotto squadre finaliste di tutta l'Italia poi gli ufficiali di gara sono davvero davvero tanti eh sono sei finali nazionali i numeri dei dati social ve li potete vedere benissimo sono numeri eh importanti importantissimi e quindi sapete bene che le nostre che le dirette delle nostre partite sono molto molto seguite non solo hanno dal nostro entourage ma anche dai genitori da tutti quanti eh sì è chiaro che tutto questo eh è dovuto anche all'importanza che stanno dando i nostri sponsor perché se è vero come è vero poi magari vi darò qualche notizia in più sul sul nostro sul nostro sul marketing è chiaro che tutto questo è dovuto anche all'interesse che si è venuto a formare proprio delle regioni sapete perfettamente che muove intorno a mille persone quindi chiaro che c'è una richiesta da parte delle 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 istituzioni pubbliche e soprattutto da parte delle regioni per organizzare questi eventi di massa perché comunque all'interno del segmento turistico sono eh molto molto ricercati chiaramente perché se si muove gente si muove ulteriormente il segmento turistico anche anche se devo registrare che qualche problema lo stiamo avendo in maniera esattamente opposta perché con quello che sta succedendo in Italia si fa fatica a trovare anche alberghi liberi e anche a prezzi diciamo eh convenzionati per per organizzare queste manifestazioni però la richiesta c'è quindi noi riusciamo comunque a sopperire a tutto quello che che serve la formazione indigenziale tutti quanti ormai avete avete avuto contezza che è partita l'accademia è un progetto a cui ci tenevamo tutti l'abbiamo scritto nel programma eh forse non ci aspettavamo questo interesse non ci aspettavamo davvero tutto tutto quello che sta girando intorno ci abbiamo iniziato con corsi per dirigenti di società per i dirigenti di comitati per i dirigenti per i ferici abbiamo già fatto un corso per team manager che grazie a Dio ha visto tutti i partecipanti eh tutti quelli che hanno avuto che si sono che hanno raggiunto eh la fine del corso tutti stanno lavorando con le società qualcuno con noi chi ha scelto di non lavorare ha scelto per conto suo ma c'è una richiesta tale da parte del mondo della pallagolo che ci che ci c'è adesso ci ci sta costringendo costringendo per fortuna ci sta mettendo nelle condizioni di fare un altro corso quindi credo che sia stato già indetto tra poco partirà con tutte le sue configurazioni i partner della quindi chiaro che se ci sono i risultati si aumentano i numeri se c'è interesse se c'è tutto l'interesse intorno alla alla pallavolo c'è anche l'interesse di aziende che che vogliono investire nella in questa in questa attività chiaro che sulla pallavolo abbiamo degli sponsor anche abbastanza importanti eh sapete che da tempo siamo legati al DHL, al DRA, ad Asics eh abbiamo aziende importantissime come Aia, Oliveto, Parmigiano, Reggiano, lo stesso eh è il nove, Trentino Sviluppo eh abbiamo una serie di di nuove eh di nuove aziende e posso dire tranquillamente che rispetto al al passato siamo riusciti anche ad avere un discreto un discreto incremento oggi fra eh eh entrate cash, entrate in contropatturazione questa federazione in troita quattro milioni e settecento trentacinque mila euro quindi diciamo che è una cifra forse fino a qualche tempo fa e questo lo devo lo dobbiamo eh dire sì innanzitutto alla alla al movimento che trae ma anche grazie agli uffici che si stanno dando da fare soprattutto alla gente che sta credendo a quello che stiamo facendo solo per inciso quindi se qualcuno eh lo dico così in anticipo eh solo dal per quanto riguarda l'europeo quindi non c'entrano niente con quello che abbiamo detto prima con i quattro milioni e settecento mila euro abbiamo tirato fuori un milione e quattrocento e santa mila euro cash solo di sponsorizzazione e credo e non credo sia una cifra abbastanza cioè da da sottovalutare chiaro che stiamo giudendo i conti dell'europeo stiamo facendo gli ultimi gli ultimi confronti finanziari con la CEV io mi auguro quanto prima di tirarvi fuori anche il congiuntivo finanziario dell'europeo oltre a tutti i numeri che eh sicuramente vi diremo chiaro che abbiamo anche dei partner importanti e insieme unitamente a i nostri sponsor per esempio Viadora, Wilson, Uliveto, Radio, Kis, Kis, eh Rai Sport, eh Discovery, Corriere dello Sport, Alien sono tutti sono tutti i partner che stanno investendo nel Bici Volley, stanno investendo con noi e sono sono partner che credono davvero in tutto quello che che stiamo facendo chiaro che la Rai, Sky, Eurosport, Discovery, Radio, Kis, Kis, Rai Kids, tutti questi sono tutti eh network sono tutti eh sono tutte tutto l'interesse che stanno creando ci stanno comunque dando dei risultati importanti. Io voglio solo farvi un esempio il docufilm eh che è stato trasmesso alle ventitré e dieci ha fatto duecento quarantanovemila spettatori con picchi fino a quattrocentomila e uno share del due virgola sei al cento. Credo che a quell'ora non non è assolutamente un risultato da da sottovalutare. significa che comunque l'interesse è notevolissimo e il nostro mondo vive anche su queste cose qui ed è per noi importantissimo. Se vi devo dare alcuni dati sugli ascolti sugli europei abbiamo fatto milla quattrocento quarantaquattro ore di dirette abbiamo avuto trentotto milioni di spettatori di spettatori un milione duecentonovantunomila seicentosettantasei visualizzazioni. Tutte queste cose chiaramente eh le potrete trovare direttamente sul sito nostro non so dove quindi sono tutte documentazioni che vi lasciamo per quello che dovete fare. I progetti collaterali sapete che stiamo cercando di intensificare i nostri rapporti con i mezzi di comunicazione vogliamo continuare magari se riusciamo a potenziare tutto questo eh con voi chiaramente saremo 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 contenti. Eh devo parlare del docufilm penso l'avete visto tutti. Eh non credo che ci sia bisogno di fare qualche ulteriore commento eh tutti quanti siamo stati felicissimi è stata una un'iniziativa molto molto bella tra l'altro il primo docufilm mi sa che eh ha vinto il paladino d'oro come il film il dolla dopo il docufilm sportivo più più importante questo è un piacere al di là per per la bravura di di Mario Maillard del il suo staff che hanno realizzato questo dai chiaramente supportato dai nostri uffici quindi chiaro un ringraziamento particolare Ballarai va dal direttore del sport il nostro amico eh Jacopo Volpi e quindi stiamo stiamo con perché comunque alla fine giocare di squadra vincere di squadra comporta avere comunque dei risultati importanti. Ci siamo un po' rinnovati siamo rinnovati perché era avevamo quattro stelle siamo partiti da mettere la quinta e quindi sono i nostri cinque mondiali vinti ma abbiamo pensato di fare qualcosina in più cioè di di mettere i colori della nostra bandiera forse mancavano dal nostro dal nostro logo abbiamo riparato poi posso darvi dei dati dei social media credo che fate prima a leggervi di voi chiaro che il sito ha negli ultimi nove mesi di internet hanno registrato cinque milioni più di cinque milioni di utenti c'è diciassette mila e cinquecento pagine visitati stiamo parlando di numeri anche abbastanza importanti tra poco andremo a riproporre la loro fame chiaro che eh sapete come funziona ci sono alcuni giornalisti che indicano delle persone delle dei nostri eh atleti arbitri dirigenti tecnici che si sono particolarmente distinti e abbiamo quest'anno eh siamo partiti anche nella stesura del bilancio a fare a mettere due nuove sezioni una FIPA e con uno stanziamento iniziale di ottanta milioni si tratta di tutti i progetti di responsabilità sociale abbiamo voluto identificare una sezione del nostro bilancio che eh possa andare a a garantire per esempio la maternità eh un aiuto alla maternità delle atlete e le nostre atlete vogliamo facciamo anche una serie di interventi per quanto riguarda eh conferenze altre 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 iniziative quindi siamo presenti non solo sull'evento sportivo ma siamo presenti nella società e vogliamo assolutamente incrementare questo tipo di iniziative 80 mila no no scusate il bilancio nostro è di 50 e chiedo scusa 80 mila euro eh no 80 milioni grazie Marco non sapremo dove prenderli e poi un'altra un'altra sezione di bilancio l'abbiamo voluta mettere eh con per quanto riguarda l'attività internazionale intanto l'Italia è l'unica nazione che è partner dell'AFGB per i progetti di di intervento nei confronti delle delle società più piccole delle federazioni più piccole però non ci siamo fermati noi all'interno della 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 CEV abbiamo già fatto con alcune eh con alcune federazioni dei 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 protocolli chiaramente tutti siglati dalla CEV questi protocolli sono con Albania Kosovo Irlanda Turchia Ungheria Lettonia capite che c'è tanta gente che vorrebbe ci ha chiesto però stiamo andando piano piano in modo da da poter garantire a tutti un aiuto in che cosa consiste questo protocollo? Il protocollo consiste in un aiuto che noi diamo a queste società a crescere magari mandando di là nelle loro nel queste nazioni dei nostri tecnici dei nazionali ad aiutarli a sulla nessun reclutamento eh cerchiamo per quanto possibile di fare degli stec insieme e questo per loro un motivo di grande crescita. Un'ultima roba vi devo dire avevamo detto che eh avevamo promesso a Papa Francesco di eh di aiutare eh la fondazione del dispensario pediatrico Santa Marta e quindi siamo nelle condizioni adesso di di fare tutta questa iniziativa quindi tra poco partirà un'asta e tutto il ritavato dell'asta sarà dato direttamente alla a queste due a queste fondazioni. Io avrei chiuso qui per ora magari spero di eh che qualcuno su questi argomenti mi faccia qualche domanda ma anche su altro non c'è problema sapete perfettamente che eh quello che mi chiedete io vi rispondo su quello che mi chiederete vi risponderò ecco vorrei solo fare una piccola considerazione guardate io auguro a tutti i leoni di tastiera di continuare a scrivere peccato io sono sui social solo di riflesso non non riesco a starci continuate a scrivere bene o male ma continuate a scrivere ma soprattutto vorrei dire che questa è una federazione trasparente che che ne dica qualcuno che che possa pensare perché mai nessuno qui ha nascosto nulla quegli errori si possono anche fare sicuramente ne facciamo assolutamente come tutti quanti chiaramente chi non opera non sbaglia chiaramente chi opera può fare anche qualche errore per il momento io credo che dobbiamo solo rispondere con i risultati e i risultati ci sono sono sotto gli occhi di tutti sarà una mia deformazione professionale però credo che alla fine le chiacchiere lasciano il tempo che trovano le i pensieri le idee le convinzioni lasciano il tempo che trovano di fronte ai numeri credo che numeri come questi la federazione italiana pallavoro non li ha mai avuti li ha sempre avuti in crescendo perché tutti hanno contribuito a fare grande questa federazione non voglio dire che siamo la seconda la terza la quarta federazione io devo registrare giorno per giorno un aumento dei tesserati e vorrei ricordare che quando siamo partiti ormai credo che siano quasi tre anni noi avevamo detto che dovevamo avvicinare io volevo avvicinare un po di più la struttura centrale la federazione centrale alla periferia alle nostre società sportive ci stiamo provando e credo che aiuto assistenza nelle nostre società sportive ne stanno avendo specialmente in questo periodo in cui stiamo affrontando due problematiche importanti che è quello del lavoro sportivo e quello del vincolo ne usciremo bene siamo tranquilli io credo che tutti i nostri uffici stanno lavorando il nostro consiglio sta lavorando tutti quanti stiamo mettendo giù delle idee anche ieri in consiglio federale abbiamo assunto una delibera di indirizzo sul vincolo tra poco verranno fuori delle delle iniziative vorrei ricordare a qualcuno che questa legge non l'abbiamo voluta noi ce la siamo ritrovata e cercheremo di gestirla come sempre come la federazione pallavolo ha sempre fatto noi siamo liggi a quello che sono le regolamentazioni non faremo mai nulla contro o borderline noi ci adegueremo sempre alle disposizioni delle delle leggi cercando di mettere le società nelle condizioni migliori di operata la più grande alla più piccola dicevo ieri consiglio federale che anche una sola società una sola società per me è importante che dia il suo contributo e che possa essere soddisfatta nelle loro esigenze però capite che siamo 3.800 3.600 non so quanti siamo quante società ci sono quindi tutti quanti dobbiamo capire che quello che viene fatto viene fatto nell'interesse quanto più possibile generale io sono qui aspetto le vostre giacomo rossetti prego buongiorno a tutti buongiorno presidente manfredi e buongiorno mi sentite sì sì vai giacomo eh no innanzitutto faccio complimenti al presidente per i numeri di quest'anno che sono veramente impressionanti e non è piageria sono veramente impressionante il l'incremento che c'è stato e quello che sta avviando la valla a vola adesso io ho una duplice domanda ehm se dovesse scegliere una cosa sola di tutto quello che di cui ha parlato da migliorare quale sarebbe cioè su cosa lei vorrebbe ulteriormente limare affinare il lavoro eh su cosa si può ancora migliorare e ha più margini secondo lei e come seconda cosa se nel corso di questo triennio eh non voglio farle levare sassoni dalle scarpe ma c'è una critica che le ha fatto particolarmente male e che col lavoro del dell'ultimo anno ha potuto eh ha potuto confutare completamente grazie allora intanto genericamente potrei dire che possiamo migliorare tutto io spero solo di continuare a lavorare per migliorare le condizioni delle nostre società sportive il problema serio che noi abbiamo e ce lo abbiamo perdonatemi è quello degli impianti io mi auguro che prima o poi sia modificata questa regolamentazione degli impianti scolastici perché non ce la si fa più siamo nelle condizioni peggiori oddio guardate quando io ho detto che abbiamo organizzato un europeo e siamo stati dei folli noi siamo stati davvero dei marchi e di organizzare un europeo in nove città italiane laddove in italia c'è l'impiantistica sportiva peggiore secondo me di quelli dei paesi più evoluti noi abbiamo fatto l'europeo in palazzetti in cui abbiamo dovuto costruire le sale stampa le tribune stampa abbiamo dovuto costruire le sale hospitality abbiamo dovuto fare di tutto quindi con un dispendio economico sicuramente dieci volte maggiore degli altri io credo che nell'impiantistica sportiva si sia fatto zero non dico poco zero ultimamente che significa che anche negli impianti sportivi scolastici il problema è uguale quindi io credo che al di là degli investimenti economici investimenti finanziari vadano fatti anche degli investimenti normativi nel senso che bisogna dire e dare la possibilità concreta reale vera a tutte le società sportive che sia arrivato a volo calcio basket e tutto di poter accedere in maniera seria e concreta negli impianti facciamo questa normativa intanto perché le nostre società sono disponibili anche ad intervenire in questa in questa storia io continuerò a battermi se c'è da migliorare qualcosa ve lo dico in maniera sincera le nostre società non hanno bisogno di non hanno bisogno di sì certo aiutano ma i nostri dirigenti sono così bravi che sono in grado di fare la loro attività la loro attività che è basata sul consenso delle famiglie sul consenso che viene dall'entrata che le famiglie fanno quindi molti problemi da un punto di vista economico non ce ne hanno anche perché perdonatemi mi sa che gli enti pubblici ultimamente da un punto di vista finanziario non è che abbiano così tante risorse a parte giustamente quelle che servono sugli investimenti tipo segmento come vi dicevo prima turistico e tutto il resto le nostre società hanno solo bisogno di una roba dell'impianto sportivo dateci gli impianti poi il resto faremo di tutto noi io credo che il 2024 potrebbe essere un anno per la federazione importante sotto questo punto di vista quello che noi potremo fare sicuramente lo faremo ma lo faremo anche e soprattutto in funzione di migliorare le attività delle nostre società sportive la seconda domanda una critica che mi è venuta beh vabbè scusate critiche ne abbiamo avuto ne abbiamo avute diverse non lo so io credo che nella vita alla fine bisogna sempre valutare ponderare tutto non so credo che qualche polemica c'è stata nel settore nazionale senior femminile io credo che le scelte fatte alla fine non hanno portato a questo tipo di risultato vorrei solo sommessamente far comprendere a qualcuno che se una nazionale vince una vnl vince fa un terzo posto cioè non mi sembra il caso di prendere buttare tutto via quando poi le situazioni diventano difficili giustamente come dice velasco ci sono rapporti che finiscono perché finiscono è chiaro che insieme si ragiona e si trova una soluzione migliore però qualche critica non più di tanto ma sappiate non mi toccano non mi toccano per una ragione semplice perché chi mi conosce e chi conosce come è composto questo consiglio federale sa perfettamente che noi andiamo avanti tranquillamente ma non per la nostra strada ma ponderando tutte tutte le cose quindi onestamente scheletri negli armadi personalmente io non credo di averne poi se qualcuno dice che ce le ho lo apri pure quell'armadio mi sembra che siamo anche abbastanza trasparenti le nostre delibere grazie a dio sono tutte pubblicate sul sito sappi l'attività che fa il consiglio federale è chiara quindi io credo che come miglioramento come miglioramento di obiettivo è sicuramente un lavoro maggiore sugli impianti e poi per quanto riguarda le critiche le supereremo con i risultati io credo che faremo bene grazie scusate eugenio per alta buongiorno 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 io avevo una domanda su un altro argomento negli ultimi giorni purtroppo sono emersi tanti episodi di abusi da parte di allenatori e violenze sui minori la FIPA aveva intervenuto anche radiando alcuni alcuni tecnici a parte questo volevo sapere se ci sono altre iniziative su questo tema di sensibilizzazione o altri progetti ma intanto ho detto che abbiamo messo proprio in evidenza in una sezione di bilancio in cui abbiamo anche stanziato dei fondi per questo tipo di iniziativa quindi credo che adesso i consiglieri addetti ai consiglieri interessati faranno un progetto soprattutto su questo e cercheremo di farci dare una mano da qualche azienda specializzata da qualche da qualcuno che può comunque fare qualcosa chiaramente il nostro è un lavoro a livello preventivo perché guardate a livello di repressivo da che ci sono stato io ma credo anche prima su questa roba non c'è assolutamente da discutere la radiazione e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria poi non da questo punto di vista non c'è remissione di peccati per nessuno quindi noi continueremo su questa linea ma soprattutto adesso inizieremo già dalle nostre nazionali giovanili cominciamo a fare gli incontri cominciamo a fare gli incontri con i tecnici delle società con i tecnici e i dirigenti cercando di andare a sensibilizzare un po' tutti su questo argomento Gianluca Pasini Buongiorno a tutti presento due cose il Club Italia femminile è stato il fiore all'occhiello della federazione per più di vent'anni ed è diventato un modello tanto che molte altre federazioni sia italiane che straniere lo hanno copiato negli ultimi anni credo che il capitale femminile non nei risultati ma nella sua mission principale portare le giocatrici al primo livello abbia avuto una serie di problemi guardando dal futuro cosa pensi che ci sia da fare nel Club Italia per aumentare il numero di giocatrici che possono arrivare a giocare nella Signores la domanda la seconda domanda invece è sul 2024 credo che sia un anno strategico per la tua federazione credo che tutti sappiano cosa tu ti auguri che succeda a Parigi però come come ti immagini questa questa avventura in Francia dopo che l'Italia avrà ottenuto la qualificazione ovviamente con due nazionali che forse per la prima volta sono ai massimi livelli di competizione grazie e mi raccomando che hanno sempre le domande a cui a cui devo rispondere mi riferivo alla seconda perché sulla prima ti rispondo subito e se avete potuto notare quest'anno con il Club Italia femminile abbiamo dato una svolta abbiamo preso un gruppo di ragazze giovanissime piccole probabilmente anche fisicamente dotate siamo partiti da un livello più basso c'è la motivazione chiaro che negli ultimi anni giocatrici ne sono uscite però diciamo che il Club Italia femminile è servito anche non solo per dare l'infala nazionale ma soprattutto anche ai club di Serie A ora la nostra nazionale senior non è una nazionale piccola non c'è una nazionale di grammi di attenzione sono tutte giovani se noi ogni anno ogni due anni facciamo un progetto per per tirar fuori ragazze di primo livello che poi alla fine non solo non trovano posto in nazionale perché voglio capire dietro quelle che stanno giocando quanto tempo ci metterà la gente ad arrivare ma soprattutto molte volte non creano non hanno nemmeno nei club spazio capite bene che qualche cosa va rivista probabilmente queste ragazze che stanno lavorando adesso per il Club Italia potrebbero essere pronte fra un po' di tempo quando qualcuna delle delle più grandi che adesso è nazionale potrà segnare un attimino il passo diciamo che il problema del Club Italia va anche vissuto momento per momento va vissuto soprattutto sulla ricerca dei talenti se ce ne sono bisognerebbe andarli a trovare bisognerebbe è quello che stiamo cercando di migliorare anche perché io credo che se facciamo un analogo discorso al maschile noi il Club Italia maschile lo abbiamo messo via da un bel po' di tempo i risultati credo che siano anche stratosferici indipendentemente dal Club Italia residenziale perché in questa storia il Club Italia allargato maschile è servito soprattutto ad avvicinare un po' di più la periferia alla nazionale ma è servito anche a dare l'infa alle serie B alle serie A3 ora le serie A2 e il lavoro che si svolge ogni anno in estate è un lavoro che serve anche e soprattutto ai nostri club ora sono due situazioni sicuramente diverse però in questo momento credo credo che sia il caso per quanto riguarda il femminile di ripartire e siamo ripartiti con un nuovo progetto anche perché noi ci troviamo di fronte ad un momento storico particolare all'abolizione del vincolo quindi bisognerà capire e bisognerà fare tutto un discorso a monte per cercare di incentivare tutti i club sostenere i club che lavorano davvero e seriamente nel settore giovanile altrimenti quello che ci mancherà sarà l'impegno dei club d'accordo che la federazione farà il suo d'accordo che la federazione potenzierà sempre il discorso dell'attività giovanile il discorso delle nazionali giovanili perché guardate quella cifra che vi ho detto prima che la federazione spende per fare le nazionali giovanili è una cifra per qualcuno folle ma per noi è una cifra che ci permette anche di avere risultati perché se poi arriviamo come io sempre ho spiegato a giocarci una medaglia in tutte le competizioni un motivo ci sarà è perché prendiamo i tecnici migliori perché prendiamo i fisioterapisti migliori preparatori fisici migliori e quindi sono investimenti che vanno fatto e tutto questo va a vantaggio sicuramente della federazione ma soprattutto a vantaggio dei club guardate la federazione vorrei ricordare a qualcuno che non è fatta dal sottoscritto o degli altri 14 consiglieri federali la federazione è fatta di 3500 3600 società non so quanti siamo oggi quindi è questo il problema noi dobbiamo partire da questa considerazione che è di tutti quindi se io investo e spendo un centesimo per l'attività giovanile non è certo per mettermi una medaglietta certo fa piacere la medaglietta ma serve per creare giocatori atleti che possano andare a fare bene nei club e tenere su alto il livello del campionato dicevo ieri alle due leghe cioè noi non ci possiamo permettere di prendere strade diverse ma attenzione c'è la massima collaborazione con le leghe mai come in questo momento sono felicissimo del delle quindi le problematiche che hanno i club insieme le dobbiamo superare perché se il problema del vincolo è legato ad alcune problematiche di alcuni club la federazione ha tutto l'interesse a risolvere quelle problematiche perché comunque lavoriamo insieme quando diciamo che si lavora di squadra si lavora perché formare gli iniziati durante l'estate è importantissimo per i club ma è altrimenti importante se non un po' di più in giro continuino a lavorare perché questi giovanili possano sfide nelle loro competizioni quindi noi stiamo lavorando insieme io questo credo che dovremmo 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 vedere per quanto riguarda il 2024 Gianluca io vorrei evitare di parlarne per scaramanzia sai come penso in queste cose però ti dico che ci andremo vero problema è che non possiamo non ci dobbiamo per piacere e questo ve lo chiedo davvero con il cuore in mano non possiamo caricare di responsabilità tutte le ragazze e i ragazzi i ragazzi sono preparati sono bravi sanno quello che devono fare altrettanto le ragazze sappiamo che abbiamo due nazionali indoor competitive ma molto competitive non le carichiamo per piacere di dire perché poi alla fine e anche anche sostanzialmente a Tokyo siamo andati con una buona nazionale anche almeno quella femminile ma la maschile anche ci siamo presentati bene però poi alla fine il risultato non lo abbiamo raggiunto certo non è certamente colpa solamente del carico emotivo che potevano avere assolutamente però sono tutte cose che vanno ad inserirsi in un certo discorso io continuo a dire ma non lo dico per scaramanzia attenzione vi prego in tutte le io credo che l'italia essendo una nazione così come dice boricic o come dicono alla fvb la prima nazionale la prima nazione da un punto di vista l'importanza della palla a volo cioè l'italia proprio perché è l'italia deve essere sempre tra le prime quattro e giocarsi una medaglia in tutte le competizioni ecco nel momento in cui siamo lì diciamo che c'è una scuola c'è tutto un movimento che concorre a tenere su i ragazzi e le ragazze anche dal punto di vista tecnico io non vorrei vi prego non vorrei caricarle troppo da questo punto di vista anche perché dobbiamo essere coscienti e onesti che abbiamo due buone nazionali intanto ci dobbiamo qualificare ci qualifichiamo poi dopodiché ci andremo a giocare tutto certo signori se vinciamo siamo felicissimi se non vinciamo però siamo lì saremo felici uguali perché non è che possiamo suicidarci prima o poi la medaglia ce la prenderemo quella non sappiamo con chi ma non sarà questa sarà la prossima peccato noi dobbiamo avere sempre la coscienza tranquilla la coscienza pulita che abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di arrivare a quel risultato Luca Muzioli ciao buongiorno a tutti buongiorno presidente le volevo chiedere due cose la prima riguardava il nuovo format mondiale che riduce a due gli anni per il mondiale non più a quattro cosa ne pensavate voi come federazione poi un tema impiantistica recentemente sono stato al pavesi per la conferenza di velasco e ho visto che ci sono dei lavori in corso siccome credo che quello sia uno dei fiori all'occhielo il nostro movimento voglio sapere a che punto erano questi lavori in prospettiva insomma grazie mille intanto auguri grazie Luca la prima domanda senti Luca ti devo dire posso anche non essere d'accordo però credo che un risultato lo abbiamo raggiunto cioè quello che faremo due sempre due manifestazioni e non tre cominciamo già a dire questo e se il calendario internazionale ha una sua connotazione sinceramente potrebbe anche starmi bene poi attenzione da qui al dire che ogni due anni il mondiale sia negativo o positivo bisognerà guardarci dentro perdonatemi perché allargare anche il mondiale al numero esponenziale di squadre da un punto di vista tecnico sapete perfettamente è un disastro da un punto di vista promozionale molto probabilmente per quelle altre federazioni potrebbe essere importante perché guardate noi continuiamo a vedere dalla nostra ottica ed è giusto che dalla nostra nostra ottica fare un mondiale e giocare un girone da quattro squadre con con la squadra giovanile si può dire nostra diciamo che non va bene però per quelle quando quando poi cresceranno le altre le altre nazioni io molte volte a chi me lo chiede faccio riferimento della federazione di pallavolo guardate noi abbiamo 21 regioni ci sono regioni chiaramente più grandi più evolute e ci sono regioni meno evolute è chiaro che tutti quanti ci dobbiamo impegnare non a far calere a far calare le migliori ma cercare di far salire un po anche le altre religioni lo stesso discorso che succede a livello internazionale poi sono d'accordo con te perché organizzare il mondiale ogni due anni probabilmente qualche problema lo potrebbe lo potrebbe lo potrebbe avere ma non tanto per noi che la competizione la dobbiamo giocare ma soprattutto per per chi organizza perché non credo che nel mondo ci siano tante risorse per poter organizzare il mondiale ogni due anni quindi poi sono problemi non di mia competenza sono problemi che la federazione internazionale credo abbia valutato e che stia valutando se ci sono queste condizioni alla fine benvenga a me interessava e su questo devo ringraziare la fvb ma soprattutto anche chi si è battuto per questa roba qui per boricic che si sono si è battuto tantissimo a dare perlomeno delle date certe e al di là di queste di non sganciare non sganciare perché comunque noi abbiamo un campionato che è un campionato un signor campionato un campionato importante credo ci siano alcune pochissime eh situazioni da sistemare probabilmente ci riusciremo probabilmente no e quelle legate alle superfinals di europea però credo che alla fine se il calendario è questo ci dobbiamo organizzare all'interno ed è anche giusto che all'interno di questo calendario ci siano i giustissimi tempi di riposo per quanto riguarda gli atleti credo che adesso più o meno un po abbiamo fatto un passo avanti ma è una lotta perché guardate bisogna compenetrare tutte le esigenze per quanto riguarda la seconda domanda sull'impiantistica del centro paesi guardate io vi dico solo una roba noi come federazione stiamo pagando il mutuo potrei fermarmi qui stiamo rimborsando i soldi del mutuo per quella struttura di cui non se ne vede traccia poi credo che la domanda bisognerà rivolgersi alla stazione appaltante e bisognerebbe rivolgersi a chi sta facendo queste cose qui sono tre anni e ancora ci vediamo non vediamo la luce ritorneremo a parlare perché purtroppo i lavori non dipendono da noi la stazione appaltante è sport e salute la stazione il direttore dei lavori credo sia di sport e salute noi lì l'unica cosa che facciamo è rimborsare la quota parte del mutuo che è da parte nostra mi auguro mi auguro che il nuovo corso di sport e salute possa sbloccare questa situazione ma soprattutto mi auguro che questa opera non faccia la fine di tutti della maggior parte dei lavori pubblici a dove ci vogliono anni spero almeno i miei figli riescano a vederlo scusate Doriano Rabotti buongiorno presidente ciao Marco ciao a tutti gli amici collegati auguri di buone feste vado drittissimo al punto nazionale femminile adesso che tutte le decisioni sono state prese tutte le casere sono andate al loro posto se il presidente si rimprovera o comunque pensa a posteriori che avrebbe dovuto fare qualcosa di diverso e quanto tutta la bolla social mediatica che è diciamo la novità di questi anni della gestione di una realtà come la nazionale soprattutto femminile vi crea problemi o comunque vi porta a prendere decisioni noi siamo tutti diciamo della generazione qui le cose si dicevano in palestra si si vedevano in base ai risultati adesso ci sono degli elementi nuovi di cui bisogna tener conto quindi volevo capire un po' questo tipo di realtà di questi tempi che quanto vi non dico condiziona però insomma in qualche modo dovete averci a che fare anche voi velasco da questo punto di vista è forse l'uovo di colombo no perché chiaramente è incontestabile data da tanti punti di vista insomma grazie intanto velasco è divisivo lo sapete benissimo proprio perché è velasco e quindi stiamo parlando di una figura io credo di aver già risposto prima se io dovesse andare dietro a quello che si scrive sui social forse probabilmente dovremmo cambiare presidenze ogni ogni settimana noi dobbiamo avere un'idea che è quella dei numeri e dei risultati è chiaro che se si arriva ad operare un cambio è perché non ci sono più le condizioni ma abbiate pazienza vorrei ricordare a qualcuno che la nazionale italiana deve dare anche le direttive e la nazionale italiana non può permettersi di tirar via uno staff di tirar via un allenatore che comunque è stato uno dei più vincenti se non il più vincente della nazionale femminile l'anno prima se qualsiasi altra nazione del mondo avesse vinto la vnl ed essere elevata terza al mondiale aveva doveva pensare di mandar via l'allenatore è chiaro che diventa complicato ma al di là di al di là dei numeri io credo che alla fine noi siamo una nazionale che è anche vincente poi se dobbiamo pensare che di vincere sempre comunque qualche problema ce lo dobbiamo porre prima noi la scelta di velasco attenzione è stata una scelta ponderata cioè in questo momento noi abbiamo pensato non solo a prendere il tecnico di caratura tecnica importante ma abbiamo pensato di prendere una figura che sia in grado di gestire e soprattutto col suo carisma di dare il nuovo impulso alla nazionale femminile che guardate secondo me infatti è una nazionale di primo livello però vorrei solamente fare una piccola considerazione cioè non è che dobbiamo pensare che siccome siamo arrivati secondi al mondiale abbiamo vinto la vnl siamo arrivati terzi all'europeo abbiamo fatto questo tutto questo cioè dobbiamo per forza essere i migliori del mondo perché probabilmente da qualche altra parte c'è qualche altra nazionale anche abbastanza forte come la nostra e lo stesso vorrei fare attenzione a non avere lo stesso problema con la maschile perché la nostra nazionale di primo livello i ragazzi sono bravi i ragazzi ce la stanno mettendo tutta da un punto di vista di impegno sono sono encomiabili però ci sono ci sono anche gli avversari non ce lo dimentichiamo che noi non giochiamo da soli perché sarebbe sarebbe un errore strategico anche questo abbiamo visto che le altre nazionali sono abbattibili sono al nostro livello a noi magari è mancato qualcosa per cercare di vincere ma sono a livello nostro quindi vorrei queste cose ce le dobbiamo anche dire io credo che inizia un nuovo corso con con velasco secondo me forse io ho ritenuto ho ritenuto che fosse l'uomo giusto in questo momento storico per la nostra nazionale femminile ultimo giornalista a chiedere la parola è Vanni Zagnoli buongiorno buongiorno presidente chiedo scusa per la voce raffreddata io le proporrei se posso quattro piccoli temi a proposito del ct femminile discorso Giovanni Guidetti che non è mai stato credo considerato neanche dai suoi predecessori nonostante sia i vertici europei da molti anni è un discorso caratteriale suo poi leggevo una bella intervista di Mazzanti alla gazzetta dello sport con Davide Romani e sosteneva che sosteneva di essere stato vicino all'esonero in tre occasioni addirittura se può rivelare chi poteva essere il prescelto se le cose fossero andate diversamente poi presidente quando ha presentato Velasco anche ripensando a freddo a tutte le sue argomentazioni sul discorso del doppio incarico c'è un solo passaggio che non mi ha convinto lei diceva come può col doppio incarico essere efficace sulla valutazione della logistica cioè deve andare a scegliere l'albergo a Parigi ritiro ecco quello sono convinto che non sia un discorso centrale nel senso che magari ci sono soste magari può andare un team manager e l'ultimo quesito riguarda proprio il presidente Manfredi se non ricordo male col quadriennio olimpico ci saranno tutte le federazioni in scadenza se si ricandida e se ha un pensiero su il i limiti che non ci sono più quindi potrebbe andare avanti alla Magri alla Carlo Magri finché sarà in piena salute insomma anche all'infinito potenzialmente chiedo scusa e grazie intanto non è così non è così quindi allora Giovanni Guidetti perdonatemi Giovanni Guidetti è uno dei tecnici più importanti Giovanni Guidetti di quello che è successo prima io sinceramente non ne so nulla né tantomeno voglio andarci a guardare da quando ci sto io credo che Mazzanti abbia sempre fatto bene perdonate non mi credo non mi mi sono mai posto il problema del cambio di Mazzanti se non quando alla fine di questa stagione ci siamo incontrati e abbiamo concordato insieme che non era più il caso di andare avanti poi il fatto che tre volte Mazzanti ha rischiato l'esonero sinceramente quanto mi riguarda non credo proprio quindi un allenatore che vince andare andare a rimuoverlo qualche problema ce lo crea il problema del doppio incarico scusate io credo avendo fatto l'allenatore scarso ma l'ho fatto ho anche allenato in serie A credo che l'allenatore abbia bisogno di concentrarsi sul lavoro che fa ora io faccio un discorso non è il discorso di andare a vedere l'impianto di andare a vedere tutta questa roba io le faccio un esempio qualcuno dice che ci sono delle nazionali che vanno agli olimpiadi per partecipare e alcune nazionali che vanno agli olimpiadi per vincere e probabilmente nessuno sa che cosa c'è dietro a tutta l'organizzazione di un olimpiade un esempio Velasco sta allenando per esempio la sua società di club c'è la convocazione sua per l'incontro alla preparazione olimpica e guarda caso si fa di sabato e di domenica non va in panchina attenzione l'Italia non è la Serbia l'Italia non è la Turchia noi abbiamo delle esigenze totalmente diverse quindi il problema del doppio incarico significa che intanto lui deve incontrare le ragazze ci deve parlare è una cosa che ci parla come allenatore di una squadra è una cosa che ci parla come tecnico della nazionale capite ecco perché per quanto mi riguarda ma anche per quelli di prima il doppio incarico non esiste per questo motivo tra l'altro è stato lui Giulio che ha messo le cose in chiaro ha detto io non voglio il doppio incarico quindi se Giulio fosse rimasto lì sarebbe rimasto fino al 31 di marzo e non sappiamo se ci sono da fare playoff perché potrebbe anche essere che la squadra che allenava poteva andare a playoff quindi voi capite che significa che lui inizia a discutere a chiamare le ragazze a fare la programmazione a programmare con i tecnici suoi dello staff il giorno in cui finisce il campionato e deve iniziare a discutere il giorno dopo a distanza di dieci giorni le ragazze devono stare in campo quindi se lui ha bisogno di dare dei suggerimenti di guardare determinate problematiche tecniche di alcune ragazze che deve scegliere è chiaro che diventa complicato ecco perché il problema del doppio incarico non c'è poi se vogliamo io ve la dico tranquillamente l'ho detto già in conferenza stampa lo ripeto se velasco avesse avuto la clausola non avesse avuto la clausola di decisione in qualsiasi momento ragazzi io sarei andato su un'altra situazione ma sempre senza il doppio incarico perché ricordatevi da sempre nella federazione italiana per lavoro il doppio incarico non c'è stato da sempre c'è stato solo per un brevissimo periodo quando c'è stato il covid perché i due allenatori mazzanti e blengini poiché non avevano allenato per una stagione ci hanno chiesto di potersi allenare è stato per questo motivo gli è stato dato quel tipo di incarico ma noi non abbiamo mai fatto una roba decente la terza domanda è la più bella io non so che cosa devo fare domani non lo so non so nemmeno cosa farò fra un mese intanto io sono al primo mandato e ne potrei fare altri perché non è vero che non c'è la possibilità degli altri mandati perché se uno si ricandida si deve ricandidare e deve vincere con il 66 per cento per una federazione come la nostra due persone che si candidano alla presidenza e uno deve raggiungere il 66 per cento la vedo complicata ma non è quello il problema quindi io questo problema grazie a dio non ce l'ho quindi potrò decidere con calma dopo le olimpiadi in questo momento voglio parlare di tutto e l'ho già detto a tutti escluso di elezioni perché guardate io ho anche una certa età preferirei tranquillamente stare a casa ma se è necessario rimango appunto e non lo deciderò purtroppo da solo deciderò io la mia famiglia tutti perché probabilmente qualcuno non sa la vita che faccio io non sono il presidente che è qui seduto aspetta guarda vede chi mi segue sa che sono in giro per il mondo per l'italia quindi bene o male la interpreto così quindi se avrò la forza e ci saranno le condizioni se il movimento lavorerà io potrei anche rimanere potrei ho detto potrei perché poi la decisione devo prendere io in base anche alla mia vita alla mia la mia famiglia e il mio la mia salute ma non è un problema che esiste oggi e vi garantisco che non esisterà nemmeno fino alle elezioni fino alle olimpiadi dopo le olimpiadi forse se ne comincerà a parlare quindi io sono tranquillissimo lo dico che sia ufficiale per tutti quindi non so che cosa farò grazie bene leandro de santis o buongiorno a tutti eh una serie di domandine ciao presidente approfitto dell'occasione la prima è una sciocchezza ma stupito vedere l'accordo con la turchia fra i paesi da aiutare no non abbiamo sì non abbiamo da aiutare la turchia abbiamo un accordo di collaborazione con anche con israele quindi noi ce l'abbiamo con tutti ma non da aiutare noi ci stiamo scambiando loro anche noi hanno chiesto una mano sul settore arbitrale per esempio ok vabbè è una semplice curiosità sì sì ma è questo loro ci hanno chiesto una mano sul settore arbitrale non ci hanno chiesto una mano sul settore tecnico magari tutti quanti vogliono confrontare le se avete visto queste non sono ascusso la turchia non sono nazioni di primo livello perché tutte le nazioni di primo livello vogliono vogliono venire a confrontarsi con noi sul settore giovanile noi gli stage li facciamo a mandare i nostri tecnici in polonia piuttosto che in turchia a fare elezioni piuttosto che già ci stanno i nostri allenatori in queste nazioni ecco loro ci hanno chiesto ci hanno chiesto una collaborazione nel settore arbitrale tant'è vero che alcuni arbitri sono già venuti qui hanno hanno diretto partite nostre i nostri arbitri sono andati in turchia hanno fatto dei corsi degli interventi ok grazie le due domande privarie uno parlando di partecipazione mirata poi alle medaglie come dicevi prima diciamo che il beach e manca un po cioè dopo londra e dopo rio per i maschi c'è stato un po un calo no a parlo a livello di mondiali ed olimpiadi che cosa secondo te deve fare la federazione per poter far sì che all'olimpiadi non si vada anche nel beach solo per partecipare ma per provare a tornare a quei livelli la seconda domanda invece riguarda i social e chiedo se avete pensato alla luce di dei recenti fatti degli ultimi anni di fare come dire una specie di corso di lezioni soprattutto agli atleti più giovani che adesso compongono le nazionali per insegnare un po primo un più corretto approccio di un atleta con i social e soprattutto appesare quello che leggono sui social perché quasi tutti saremo d'accordo che magari su dieci interventi sui social uno è fondato è sensato può essere utile gli altri nuovi sono delle bestialità che di gente che non sa neanche da dove cominciare a parlare per le cose che invece pretende di giudicare allora andro per il bici rispondo velocemente intanto a rio abbiamo vinto una medaglia d'argento anche nell'indor quindi a tocchio non abbiamo vinto nemmeno cosa nemmeno altra ma a parte questo no ti volevo dire io credo che noi andiamo lì però sia per la coppia femminile di punta che per quella maschile di punta abbiamo operato una scelta è una scelta anche per il futuro è una scelta strategica io devo ringraziare marcia menegatti e no menegatti e paolo nicolai perché stanno facendo da chioccia due ragazzi interessantissimi sono ragazzi molto molto interessanti quindi un po abbiamo pensato soprattutto al futuro io credo che adesso a queste olimpiadi ci presenteremo con delle coppie competitive sì ma sappiamo benissimo che ancora abbiamo da lavorare per raggiungere il livello delle di quelle prima di noi sono moderatamente fiducioso sul futuro su questo sono fiducioso se magari qualcuno ci avesse seguito qualche altro a dare una mano a far migliorare salire anche qualche altro giovane molto probabilmente avremmo avuto un futuro un po più più roseo per quanto riguarda il bici però guardate io tra le slide ci sono anche le coppie che sono state indicate e ci sono delle ragazze e dei ragazzi interessantissimi e quindi stiamo facendo un discorso di base guardate noi abbiamo organizzato in Italia credo 4 o 5 tornei europei ma per cercare di far fare ai nostri giocatori ai nostri ragazzi esperienza e farli crescere anche sui punteggi perché purtroppo se non hai punteggi non riesci a salire noi stiamo lavorando un po più sulla base perché abbiamo necessità di tirar fuori quanti più ragazzi possibile per poi trovare quelli di testa io davvero ho sempre detto ringrazio Marta Menegatti e Paolo Nicolai per quello che stanno che stanno facendo e vedo che alla fine i risultati ci stanno anche dando ragione perché sono due ragazzi davvero bravi bravi e dobbiamo essere contenti quindi la scelta strategica fatta dal settore beach fatta dalla federazione secondo me sta portando i suoi ricordati forse non arriveremo a medaglia forse forse dico sempre forse perché tanto poi le partite lo sai bene bisogna giocarle prima quindi sia per noi che vinceremo quello o perderemo quello però le partite intanto le dobbiamo giocare poi si vede per quanto riguarda il discorso dei social noi l'anno scorso quest'anno ci siamo un po' compresi un po' dall'europeo da tante altre cose l'anno scorso abbiamo fatto uno credo due incontri con i ragazzi di Fefe su questo argomento e anche su altri guardate ho dovuto fare un incontro con i direttori tecnici dicendo che quest'anno nei collegiali loro devono utilizzare i nostri specialisti che vadano lì a parlare con i ragazzi non solo dei social ma che vadano a parlare di futuro che vadano a parlare che dialogare con loro su quello che devono su quello che possono fare e chiederci aiuto stiamo lavorando anche su questo si era prenotato anche mattia chiusano eccomi buongiorno buongiorno auguri buongiorno grazie volevo chiedere dalla dal suo discorso vengono fuori due dati diciamo abbastanza complesse da interpretare nel senso che 46.000 attesserati in più di quest'anno si aggiungono ai 37.000 dell'anno scorso quindi abbiamo una platea di più di 80.000 ragazzi in più in due anni no giusto no 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 attenzione attenzione io ho preso il dato al 31 al 21 dicembre del 2022 e il dato al 2000 dicembre 2023 quindi la differenza che c'è è che ci sono quasi 45.000 tesserati in più per la federazione di pallavolo che su 300.000 fanno una bella percentuale mi pare no certo in totale in totale attenzione un attimino ti dico i numeri noi al 20 questi sono i totali al 30 giugno invece alla chiusura della stagione noi avevamo 334.786 tesserati in totale quindi avevamo già superato il 30 giugno il pre covid non so se sono stato se mi sono spiegato oggi noi ne abbiamo 314.000 al 20 dicembre però guardate al 20 di dicembre dell'anno scorso dopo che abbiamo chiuso al 30 giugno rispetto a quest'anno avevamo 46.000 tesserati in meno significa che da oggi in avanti ci saranno da tesserare ancora tutti i bambini che finiscono i corsi delle scuole ci saranno da tesserare tutti i bambini che dovranno lavorare con il volo IS3 tutti i nuovi arrivi e che sono tantissimi soprattutto nella seconda parte della stagione quindi io spero di arrivare a quella fatidica cifra non ci riusciremo però visti visti visto l'andamento che già abbiamo la stessa data dell'anno scorso 46.000 46.000 tesserati in più sono abbastanza fiducioso ecco nel senso che lei la conferenza stampa di fine anno l'anno scorso aveva parlato di 37.000 in più sull'anno quindi 2021-22 e quindi diciamo io ho fatto il conto 37 l'anno scorso 46 adesso sono no no 37 37.000 erano dati dati cioè data data attenzione cioè non è che a quelli aggiungiamo perché poi alla fine quei 37.000 in più hanno portato ad avere a fine anno 334.000 persone 334.000 tesserati sono compresi quelli che c'erano al 20 di dicembre l'anno scorso non so se ho reso l'idea sì sì vabbè quindi il conto diciamo sommare le due cose è sbagliato insomma i due i due dati quelli dell'anno scorso e di quest'anno no perché quelli quelli quei dati questi due dati non vanno sommati a nulla nel senso che non è che si sommano ad altri numeri non so se ho reso l'idea cioè dobbiamo identificare a quella data il però se noi arriviamo a 400.000 rispetto ai 334 dell'anno scorso credo che il balzo è notevolissimo non lo so se li raggiungeremo e attenzione però l'obiettivo nostro è questo ok non vanno sommati i due dati attenzione sono fotografie sono fotografia quella da quelle due date specifiche per cui lì è solo una verifica dell'andamento di come va il tesseramento e quest'anno l'andamento è stratosferico non c'è dubbio ecco però diciamo questo si sposa a questa allarme che lei ha fatto sull'impiantistica per cui poi alla fine il movimento cresce e non sapete dove dove metterli siccome quest'anno nello sport italiano si è verificato diciamo un attacco notevole del tennis che sta diciamo conquistando un sacco di spazi dal punto di vista di tesserati sponsor attenzione se diciamo questo aspetto di aumentare il movimento però senza per impianti un po la preoccupa anche in vista della concorrenza e poi un'altra cosa diciamo gli allenatori in genere dicono non parlo dei singoli però lei non è un allenatore è un presidente e volevo chiederle dopo due anni diciamo un po complessi per il rapporto con la nazionale se lei sogna che questo che in cui stiamo entrando questo 2024 sia l'anno in cui finalmente eh l'Italia potrà contare pienamente avere come protagonista totale Paolo Egonu che è una giocatrice che ci invida tutto il mondo questa mi mancava ancora stavo aspettando stavo aspettando no no intanto rispondo rispondo subito la prima domanda il problema dell'impiantistica o del problema dell'impiantistica la concorrenza del tennis preoccupa no ma il problema è un altro il problema del tennis guardate ve l'ho detto prima io non penso a nulla se il tennis ha tantissimi tesserati io sono felicissimo perché comunque se li è meritati quei tesserati non c'è nulla da fare io non faccio gare con le altre federazioni né in positivo né in negativo perché tanto i miei ragazzi i ragazzi che vengono a giocare a pallavolo possono anche gli stessi possono essere anche gli stessi che vanno a giocare a tennis o possono essere altri a me interessa migliorare i miei numeri e sono numeri importanti questo non davvero credetemi non me lo pongo il problema ma anche perché non ha senso diciamo che alla fine il tennis è uno sport anche abbastanza individuale la pallavolo è uno sport di squadra quindi andremo ci andremo ad infilare in un ginepraio da cui non ne usciamo io sono felicissimo ma credetemi perché comunque gli investimenti che ha fatto il tennis sono stati investimenti non importanti importantissimi che hanno portato giustamente a quei risultati probabilmente lo stesso percorso che abbiamo fatto noi perché il risultato porta anche a questo il problema se vedremo paolo ai coni io lo voglio voglio insomma forse o non riesco a spiegarmi ma paolo ai coni ma non è mai uscita da nazionale c'è se non c'è stata e perché cortesemente lei ci ha chiesto di di stare a riposo se non ha fatto la vnl e perché lei e anche le altre ragazze tipo la orno qualche altro ci han chiesto di non venire perché non perché non volevano venire ragazzi perché non vedono l'ora di arrivare in nazionale guardate le interviste che fanno ve lo dicono tranquillamente questi non vedono l'ora di venire in nazionale e giocare con la nazionale perché per loro è importante e perché perché erano stanche venivano fuori da due anni fa quando abbiamo fatto il mondiale noi abbiamo finito ad ottobre inoltrato il già la settimana successiva queste ragazze erano già in campo per il campionato con il club quindi capite che per noi è determinante questo paola ci ha chiesto di non poter se è possibile non partecipare alla qualificazione perché aveva dei problemi giustamente era stanca aveva delle problematiche che gli diciamo vieni per forza scusatemi abbiate pazienza ma paola io vi dico che è la prima che scappa per venire a giocare in nazionale perché questa ragazza l'ho detto tante volte questa è nata nella nazionale ha fatto cinque anni il club italia forse è stata una delle pochissime ragazze non l'unica ad aver fatto tutto il percorso delle scuole superiori immagino credo con il nostro club italia c'è lei ha vissuto la maglia azzurra appena entrata quindi non so non riesco a spiegarmi paola e lì a tutti gli effetti nazionali ci sarà poi attenzione meriterà di giocare lo deciderà l'allenatore non so se ho reso l'idea ecco perché queste scelte tecniche ma tutte quante le ragazze dico tutte non c'è preclusione per nessuno giulio credo sia stato anche abbastanza tranquillo poi deciderà giustamente il tecnico in base alle esigenze tecniche alle esigenze che gli serviranno per il gruppo decidere chi chiamare chi non chiamare e deciderà lui chi giocare e chi non fa giocare questo almeno non mi date non mi date anche questa incompensa ognuno deve fare il suo mestiere io posso scegliere l'allenatore ma che devo scegliere anche i giocatori mi sembra un poco poco fuori da scusatemi grazie c'era Vanni che voleva riprendere un attimo la parola sì presidente due cose più facili mi scusi ancora per la voce di solito lo chiedevo al presidente di lega massimo righi il volley secondo lei al di là della sua gestione adesso è un po più vicino o un po più lontano dal calcio e o dal basket che è l'altro re degli sport vari parlo come movimento in generale e poi visto che purtroppo non viene mai con la stampa quanto incide per le fortune del vostro sport la figura del segretario in particolare proprio stefano bellotti che ho visto in questi anni sui campi intendo sul piano pratico ecco credo sia una figura essenziale come un un altro grande dirigente in genere i riflettori le responsabilità sono tutte sul presidente federale ma insomma lei ha un grande braccio destro in tantissimi contesti grazie abbiamo trovato un tifoso del segretario bellissimo siamo felicissimi no allora ripeto sul problema del segretario scusate anche in questo caso il segretario lo sceglie il presidente quindi io ho scelto una persona capace di grandi capacità non devo però anche qui come ho detto per l'allenatore ognuno deve fare il suo lavoro quindi è chiaro che le scelte politiche le fa il consiglio federale il presidente il segretario le mette in pratica quindi la faccia di fronte a queste cose ce la deve mettere purtroppo il sottoscritto il segretario poi non è uno come me che si risparmia e attenzione è uno che alle di notte lo dobbiamo lo dobbiamo fermare gli dobbiamo chiudere il pc perché è sempre lì che lavora quindi a questo punto di vista ci dà anche preoccupazioni però credo che siano due cose totalmente separate quando è possibile lui è lì perché deve organizzare vicina vigilare sulla macchina organizzativa e non so se sono riuscito a specificarlo ma noi questi europei li abbiamo fatti con i ragazzi della nostra federazione con la struttura nostra guardate che abbiamo visto dei ragazzi che non si sono per nulla tirati indietro ma su nulla hanno passato trascorso quasi un anno in giro per l'italia a sistemare i campi a raggiustare le varie situazioni a risolvere c'è stato di tutto su questi ragazzi e quindi sono stati anche ben gestiti dai loro dirigenti ma soprattutto dal segretario quindi non è vero che non c'è il lavoro è stato fatto è chiaro che ognuno deve rispondere del suo ma perché mi volete fare i paragoni con gli altri sport io non ne voglio fare è chiaro che ci dobbiamo rendere conto che al punto in cui siamo arrivati e la pallavolo è diventato uno sport nazionale popolare a qualcuno dico che la nostra nazionale femminile nell'immaginario collettivo degli sportivi italiani è il calcio nazionale maschile di calcio credo che sia nazionale più importante quella femminile di pallavolo quindi nazionale maschile avete visto che ha raggiunto una popolarità incredibile grazie alle facce belle di questi ragazzi alla loro modo di porsi non so non riesco a fare non riesco a fare paragoni credetemi noi noi cerchiamo di dare di dare il nostro è chiaro che stiamo crescendo e ci rendiamo conto che stiamo crescendo nell'interesse chiaro che signori il calcio è il calcio non possiamo pensare oggi di scalzare una realtà come il calcio che non succederà mai lo posso già dire da adesso né tantomeno voglia di fare una corsa col basket piuttosto che con che con la palla a mano con qualche non ci interessa perché credetemi io sono felicissimo io sono stato uno dei primi che ha gioito ma davvero in maniera seria sui successi che ha avuto il basket ma perché al di là che mi piace come sport perdonatemi però anche perché è giusto che rappresenta noi non riesco credetemi non riesco a a ad immedesimarmi in questo tipo di di discussione perdonatemi forse forse ho il mio limite bene ci sono altre domande sì chi era l'alternativa velasco se non ci fosse stata la clausola chi era l'alternativa l'alternativa velasco se non avesse avuto la clausola se non avesse avuto se non avesse avuto la clausola prima lei ha detto che era pronto ma io la clausola di velasco la conosceva da quando se n'è andato scusate l'ho detto è venuto da me ha detto guarda vorrei fare questa esperienza vorrei fare perché lui scusate io non l'avrei mai mandato cioè lui faceva il direttore tecnico delle nostre nazionali giovanili mi sa che qualche cosina forse l'abbiamo anche vinta qualche cosa è migliorata in attività giovanile maschile e perdonatemi chi l'avrebbe mai dovuto mandare è venuto da me ha detto guarda vorrei fare questa esperienza al femminile sappi però che nel momento in cui ti serve io metterò questa clausola quindi sono stato chiaro in quello che vi ho detto poi qualcuno dirai parlato hai chiesto qualcuno c'era no ci avrei dovuto pensare perdonatemi certo non avrei preso nessuno che avesse già un altro incarico con le società questo è poco ma sicuro massima sincerità non ho non ho da nascondere niente io velasco sapevo che aveva quella clausola dal momento in cui lui me lo ha comunicato ecco perché sono andato tranquillo lì bene allora intanto grazie nuovamente per aver partecipato buon Natale a tutti quanti niente io volevo eh chiudere così come ho iniziato ringraziandovi eh io credo che tutti insieme eh stiamo facendo un grandissimo lavoro stiamo facendo noi ma lo state facendo anche voi quindi vi ringrazio vi auguro davvero tanti tanti auguri e buon Natale un duemilaventiquattro che ci auguriamo sia bello come il duemilaventitré e il duemilaventidue tutto qui in bocca al lupo a tutti alle vostre famiglie e speriamo di rivederci quanto prima grazie a tutti grazie a tutti auguri e rivederci auguri grazie